Senti Tauri India, Sera Kilo, Yankee Kebek, buongiorno Senti Tauri India, Sera Kilo, Yankee Kebek, buongiorno Senti Tauri India, Sera Kilo, Yankee Kebek, buongiorno Yankee Kebek, buongiorno, avanti Senti Tauri India, Yankee Kebek, allo stand 14, sono preparato, pronti a copiaro ultimo sul campo, siamo pronti a rullaggio Senti Tauri India, Yankee Kebek, un Latte, una persona a bordo, 4 ore termina di di economia per Don Bringsive via Mezaniarri al campo dopo 30 primi Senti Tauri India, Yankee Kebek, un Latte, assistants Ära Kilo, 1 Peronte, 1 Persona, 4 ore 30 di autonomia per Don Bringsive via Mesanieri al campo dopo 30 primi Senti Tauri India, Yankee Kebek, con india Siarra un reverso, una persona a bordo, 4 ore 30 di autonomia per B Shock abrir via Metania, rientra al campo dopo 30 primi Senti Tauri India, vi chiamo per i rullaggi Senti Tauri India, Yankee Kebek, 1 consistent 4 lati, 7ines Tauri India, Yankee Kebek, taxi Ronald Long Beach Bovetравo 31 Grazie a voi, mi chiamerà poi pronto per la ripartezza. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. 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 Grazie a voi.